Vieni qui. Che c'è? Quello nuovo, Marco. L'hanno filmato mentre si allenava. Ah, ma dai! Quanto mai potrà essere fico? Non può essere così fico. Fico. E fico. E su, raga, oh! Porca miseria! Gesù! Ma ciao, Dio! Le OMG avevano ragione! Questo dico è tutto da sgranocchiare! Da farci un aperitivo! Ma che dico? Questo ragazzo è un dessert! Dimmi di più. No, 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 no. Magari va consumato dopo il dessert! Direi proprio che è un pasta completo! Oh, scusa, Nico! Scusa, Marco! Può sollevarci tutte e due nello stesso momento! Sì, hai ragione. Sono confusa. Hai degli occhiali? Sto guardando dei cubetti di ghiaccio o degli addominali. Non ho ragione. È incredibile! È come se il suo sudore produce sedi glitter! Salve, due biglietti per la fiera delle armi! Perché non mi è chiaro. Quelle lì sono braccia o cannone! No, 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 no! Toglietemi di mezzo! Se quegli addominali stessero su Instagram avrebbero un milione di follower! Non sono un amante delle chiappe, ma ora capisco quelli che lo sono! Non so se accarezzarle, baciarle o morderle! Veramente credo di voler fare tutte e tre le cose! Cavolo, mi dispiace! Chiamami terremoto, perché in questo momento sono tutta un sussolto! Wow! Come hai detto che si chiama? Marco! 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 Oh mio Dio! Mi hai svoltato la giornata! Sei forte! Ciao! Ciao! Marco! Grazie a tutti